signori cari belli hola bagai sneak peek numero 2 ieri vi abbiamo illustrato iniziato a parlare del th 16 vi abbiamo fatto vedere un po tutte le nuove truppe con il nuovo nuovo livello i nuovi cambiamenti di costi i nerfs che ci sono stati nelle difese varie eccetera oggi c'è una particolare novità che dobbiamo illustrarvi e voglio andare subito sul villaggio senza tante chiacchiere per cui like iscrizione al canale guardare in descrizione che ci sono tutti i nostri social mi raccomando attivare la campanellina per seguirci qua su youtube e non perdervi nessun video seguirci in live su twitch tutti i nostri social dicevamo che altro code creator haplo se voi fate le scioppatine che non vi costa niente sulla c cliccate scrivete haplo il nostro code creator haplo non vi cambia niente non vi cambia niente e date un piccolo aiuto a noi che vi portiamo tutte le notizie cerchiamo di essere completi esaurienti nelle varie nostre creation ok dai andiamo sul villaggino dai che c'è carne sul fuoco oggi da dire allora vi avevamo fatto vedere il th 16 abbiamo fatto vedere il nuovo livello delle difese per queste difese ovvero l'arco x il mortaio la difesa aerea torre dello stregone e torre bombardiera vi avevamo parlato del nerf di artiglieria aquila il monolito dello scatter eccetera di queste difese invece della tesla della torre degli archi cannone volano eccetera che rimanevano immutati e basta nuovo livello delle truppe queste truppe il livello degli eroi ok questo era resoconto di ieri vi sarà sembrato un po strano perché magari avete detto cavolo allora io passo da th 15 a th 16 e c'ho solo una stellina di di upgrade del th che cambia l'arma cambia la potenza eccetera ma se cambia solo un livello le difese caratteristiche c'è artiglieria aquila lo scatter monolito ma nulla di particolare di più il th 15 è quello il th 16 anche livello no 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 avevamo tenuto una cosa importante da dirvi nel th 16 ovvero che con la torre dell'arciere di livello 21 e un'altra torre dell'arciere di livello 21 difesa caratteristica che potrà essere introdotta dovrà essere introdotta col th 16 la fusione di due torri arcieri solamente con due torri arcieri del massimo livello ovvero del livello 21 noi potremmo introdurre una nuova difesa una nuova torre dell'arciere fusione delle due che un più raggio con più hit con caratteristiche particolari che avremo questa nuova nel nostro villaggio stessa cosa stessa cosa col cannone stessa cosa col cannone noi potremo un cannone di livello 21 e un altro cannone di livello 21 fonderli insieme e avere questo nuovo cannone super potente con un nuovo raggio eccetera nuova forza che sarà l'ulteriore seconda difesa caratteristica del th 16 del th 16 tutte le altre difese restano uguali non c'è fusione per quanto riguarda loro solamente per la torre dell'arciere e solamente per il cannone andiamo un po a vedere con mano come funziona questa cosa ok andiamo nel negozio e se noi andiamo nella sezione difese possiamo vedere che c'è torre dell'arciere evoluta cannone a palle rimbalzanti ok se noi ci clicchiamo per 20 milioni per 20 milioni possiamo procedere alla fusione di queste due strutture facciamo prima la torre dell'arciere ai costruttori è venuta un'idea del geniale per rendere le difese ancora più resistenti ok basta prenderne due standard e unirle per ottenerne una più forte va bene non vedo l'ora di vedere come funziona nel villaggio anch'io anch'io non vedo l'ora vedete che ha preso due strutture della torre dell'arciere per fonderle insieme e ottenerne una solamente quindi noi clicchiamo vogliamo vederlo all'opera ottenere questa nuova struttura tacchete fusione che è permanente non si può tornare indietro una volta che due strutture della torre dell'arciere sono state fuse insieme non possiamo scenderle nuovamente chiaramente una nuova difesa non ne vedo non ne vedrei il motivo completiamo bam abbiamo questa torre dell'arciere evoluta che può essere ulteriormente migliorata e portata a livello 2 andiamo un po' a vedere le sue caratteristiche vedete numero di bersagli 3 spara a 3 bersagli in contemporanea se ci fosse una truppa sola le frecce vengono unite sull'unico bersaglio due truppe vengono fatti gli spari alternati da una parte dall'altra due colpi su una e uno sull'altra prima da una parte poi dall'altra quindi la stessa cosa una truppa sola tutte e tre le frecce sull'unico sull'unica truppa che la va ad attaccare lo vedete chiaramente da questo esempio qua ok abbiamo i punti ferita abbiamo i danni al secondo bersagli e multipli terra e aria eccetera eccetera io direi di anche di upgradarla al secondo livello che così vediamo la diversità ok quindi upgradiamola al secondo livello 22 milioni completiamo l'opera e questa è al secondo livello questa è al secondo livello punti ferita 5002 danni al secondo 120 sono aumentati abbiamo il suo raggio tutto quello che c'è da sapere ok ok quante ne possiamo avere di queste torri dell'arciere evoluto andiamo subito a vederlo nel negozio ci spostiamo sempre qua torre dell'arciere evoluta 20 milioni ne hai una di due quindi io cliccando qua nuovamente posso fonderne ulteriormente due tac completiamo miglioriamo ancora perché voglio sempre averla al massimo e ne abbiamo due insieme torre dell'arciere evoluta ne abbiamo due ok quindi abbiamo ancora due torri dell'arciere normale altre due torri dell'arciere normale abbiamo ancora quella speciale modificata col villaggio del costruttore per il resto tutto uguale solamente che ne abbiamo di meno di torri dell'arciere perché chiaramente abbiamo questa fusione ed è che qua di torri dell'arciere evoluta non ne abbiamo più non ne abbiamo più facciamo la stessa cosa col cannone procediamo cannone a palle rimbalzanti abbiamo anche qua la fusione questa volta non ci abbiamo ancora la la nostra villaggiera che ci dice tutte le novità perché più o meno il funzionamento uguale vedremo chiaramente in attacco cosa cambia quindi andiamo a fonderle insieme tacchete andiamo a completare anche questo cannone a palle rimbalzanti di livello 1 è migliorabile con un secondo livello spendendo 22 milioni e lo facciamo subito guardate un po l'effetto qua intanto prima di andare a procedere vedete che il colpo rimbalza sulla truppa successiva su tre truppe ci abbiamo un rimbalzo se abbiamo un rimbalzo portiamolo a livello 2 eccolo qua con i nuovi punti ferita a livello 2 5.700 390 a distanza che fa eccetera bersaglio singolo bersaglio terra come sempre il cannone colpisce solamente i bersagli di terra quanti cannoni a palle rimbalzanti possiamo avere ne possiamo avere due esattamente come per quanto riguarda la torre dell'arciere quindi anche in questo caso di cannoni abbiamo due cannoni particolari tre cannoni normali con il cannone modificato dal villaggio che possiamo scambiarli e farlo diventare doppio eccetera brava queste sono le due nuove difese caratteristiche per il th 16 quindi diminuiscono un pochettino le strutture che abbiamo ma abbiamo due strutture molto più forti due strutture ovvero quattro a dire se facciamo il conto totale eccole qua io direi anche di vederle con mano negli attacchi vari no mi direi di provare a vederle anche con mano negli attacchi vari andiamo un po vedere con mano queste difese allora direi di attaccarlo con tre golem dalla a distanza questo cannone 1 2 e 3 vedete come rimbalza il colpo caruccio direi anche in questo caso il cannone dietro fa rimbalzo sull'altro golem vediamo anche dall'altra parte se attacco con un re regina e un drago elettrico vedete come viene splittato il colpo che in questo caso viene colpita anche la lucertolina il drago elettrico non veniva colpito direi che abbiamo visto con mano come funzionano queste nuove difese caratteristiche del th ripeto una volta che vengono fuse non si può fare chiaramente non non ne vedo il motivo perché è un passaggio di livello si migliora il th e inteso come un miglioramento avere questa difesa in più e per oggi per oggi credo di aver esaurito gli argomenti da darvi ma le novità non sono chiaramente finite signori quindi vi ricordo di lasciare un bel like di iscrivervi al canale di attivare la campanellina per avere la notizia la notifica di tutte le news di nuovi video che arriveranno in questi giorni perché nei prossimi giorni e ne arrivano ancora di notizie mi raccomando seguiteci anche in live su twitch utilizzare il codicato applo e ci vediamo alla prossima bye bye Grazie a tutti.